Meno male che oggi c'è il sole, illumina tutta la mia stanza. Beh, è ora di andare a svegliare Elena. Non vorrei perdersi il suo primo giorno di scuola. E anche Camilla, tanto vanno nella stessa classe. Elena! Camilla! Sveglia! Elena! Mamma, non andando là, è la manca così forte! Auc! Che male! Ma che cos'è che fa tutto questo casino? Mamma, cosa c'è? Dovete andare a scuola, è il vostro primo giorno. La scuola no! Meno male che io devo andare in primo superiore. Uffa, ho scelto il liceo artistico. O lo scientifico, mamma, vado nello scientifico o nell'artistico, non lo ricordo. Nello scientifico, uffa, che noia. Mamma, ma papà, quando torna da quel suo viaggio lungo che mi avevi detto che doveva fare? Io non lo vedo da più di un mese. Tesoro, tornerà presto. Ok. Meno male che noia. Dai Giulia, accompagnano le due a scuola, tanto oggi deve andare più tardi, il primo giorno. Ok mamma, andiamo piccole? Sveglia! Dai, siete arrivate, andate. Buongiorno ragazze, sono la maestra Trisha. Oggi siete all'asilo, nella scuola primaria. Di... non mi ricordo il nome della scuola, però comunque... Oh mio Dio, che strana maestra che abbiamo. Non si parla. Benissimo, oggi inizieremo a conoscerci e a fare tante belle cose insieme. Allora, iniziamo con la prima lezione. Non si dorme in classe! Ok, scusa. Allora, iniziamo con la lezione. Disegniamo! Sono quasi arrivata. Mi annuncio di andare a scuola. Chissà le mie piccoline che stanno facendo. Dai, mangio qualcosa. Inizio a preparare le uova e le mie piccoline. La forma di cuore. Ecco fatto. Sono pronta e non ci resteranno tornando. Oggi non ci faceva niente a scuola. Ti faceva solo l'inaugurazione della scuola, anche a Giulia. Ok, ecco qua. Sono pronta. Adesso lavo queste cose. Ecco la tavola. È perfetta. Mamma, siamo a casa. Sedetevi allora. Ok. Ecco qui. Mamma, io porto in camera il mio. Ma perché fate finta di mangiare? Perché non abbiamo voglia di uova. Già. Io ho mangiato tutto. Tutto. Va bene, faremo uno sforzo. Mezz'ora dopo. Oh, sono pienissima. Ho detto che non volevo. Già, anch'io. Ne sono rimasti già altri due. Mamma, quella se la mangi tu. Va bene, tesori. Solo per questa volta, però. Ok, noi andiamo in camera nostra. Ok. Eccoci. E che dire, questo era il primo giorno di scuola delle mie bellissime figlie. È stato elettrizzante. Molto elettrizzante. Vedo un po' lo specchio io. Questo. Bellissimo. Ora io so vado a un po' di posare anche io. Oh, yeah. 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 Oh, yeah.